musica questa merda di gioco che cazzo è or che miseria ben tornato a tutti ragazzi sono simon gamingro 1 e 2 e oggi siamo su i wanna ma che cazzo è? i wanna che cazzo è? c'è imparare i comandi un passo avanti dico solo questo e mo? che culo c'era un passo andato davanti ok scusate ma non dobbiamo mai questo qua perchè sennò vado saltare ahahahahah io ho paura delle mele ho paura delle mele ahahahahah allora dicendo sto da 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 oh bene eh si ah che culo dai che c'è posto ciò ha fatto ahahah 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 l'ho superato per culo ma sono un genio Sì, vai Eh, ma ogni volta Tu puoi fare tutto quello salinato Vai, inchia Che cazzo c'è La maiusca Ho disattivato il Tasti permanenti Oddio, è questo ora Nooo Così non è possibile Tutto da capo Per un fottutissimo bug del gioco Comunque taglierò le parti palloso, noiose Bisognerò tutto il video tranquilli Oh cazzo Ricordo che ancora non avesse votato su FIVA 13 Chi non avesse ancora votato su FIVA 13? La squadra di che io trovo le nati Ho mandato a ritirare l'HDPVR Dovebbe arrivare in settimana Vediamo come si sviluppano le cose Ricordo che ancora non avesse votato Per la squadra che devo allenare Vi lascio il link in descrizione Mi raccomando, votate Quella che avrà più commenti vincerà Non vi stavo la telecamera Ma Sono impegnato a Oh, mi sono visto passare la morte davanti Che cazzo è Allora Sta musica in sottofondo e l'odio L'odio, ho paura delle mele però Si, succhiamela Succhiamela Di cazzo Di cazzo li odio Ma ogni volta che potete essere scalinati di nuovo Avete scassato il cazzo Ti cazzo di totta è permanente Io a questo gioco non ci gioco più Se avete piaciuto il video mi raccomando iscrivetevi, commentate Non volete farlo continuare perché è troppo lungo o anche da fare Spero vi sia vissuto anche se è durato pochissimo E mi ricordo chi potete votare per la squadra preferita su official 13 Potete farlo per la sceglia in descrizione Ciao Ciao a tutti